È sbagliata l'espressione, oggi sono un po' dislessico? Sì, l'abbiamo detto in qualche video precedente o forse che deve ancora uscire. Comunque la dislessia è un disturbo specifico della lettura, fa parte dei DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. Non è il mio campo, però cerco di spiegarlo a soldoni lo stesso. Vuole dire che questi soggetti nei quali è riconosciuto dall'infanzia 3 su 4 disturbo specifico della grafia, dell'ortografia, della lettura, perciò disortografia, dislessia, disgrafia dalla seconda elementare, discalculia dalla terza elementare, fine seconda e fine terza. Sono disturbi specifici dell'apprendimento, perciò il ragazzo, il ragazzino è perfetto sotto qualsiasi profilo, ci vede bene, è intelligente, ha un cui nella norma, non ha nessuna sindrome genetica, ci sente bene, muove tutti quanti i suoi arti, le sue pressie, la sua bocca da dio. Però, ragazzi, c'è questa sfumatura che possiamo riabilitare o compensare. Dislessia, abbiamo detto, di essere sullo specifico della lettura, in velocità, con correttezza e di conseguenza anche la comprensione. Cosa vuol dire? Che possa essere molto lento nel leggere, questo mi crea un problema nello studio, perché, ragazzi, i miei compagni si studiano le loro dieci pagine di storia in un'oretta e io ci metto, povero dislessico, mezza giornata. Come faccio poi a farmi le mie dieci pagine di filosofia, storia dell'arte e quant'altro? Diventa un problema. Può essere il versante della correttezza, di conseguenza, leggo abbastanza velocemente, però, la correttezza di quello che leggo, di ciò che i miei occhi fotografano, non coincide con la realtà e anche qui si ha una ripercussione sullo studio e ovviamente tutto quanto si ripercuote cosa sulla comprensione di quanto si legge. Esistono chiaramente strategie riabilitative, percorsi, che non sono quelli che faccio io, ma che tutte le mie colleghe e i miei colleghi sanno sicuramente trattare e che vale ovviamente la pena per la qualità di vita e per il proprio futuro. È molto interessante, si ricorda da qui anche la lettura fonologica che si fa da piccoli, leggendo lettera per lettera rispetto alla lettura lessicale dove si fotografa la parola. Io trovo molto affascinante lavorare col tachistoscopio dove c'era la fotografia della parola e si toglieva sempre una velocità superiore perché quando noi leggiamo la parola bottiglia non è che seguiamo col dito B-O-T-T, ormai abbiamo fotografato quell'essana. Ovviamente dislessico dunque non c'entra assolutamente niente col non riuscire a cogliere le parole per fare un discorso.